Fat, più stile alla tua casa. La competenza tecnica acquisita permette anche la riparazione e la manutenzione di tende già in opera. La nostra attività principale è l'assemblaggio, la messa a misura e l'installazione diretta presso il cliente di tende da sole, tende tecniche a rullo, plissé, a pannello, verticali, tende alla veneziana e zanzarita. Grazie per la visione!